L'ho chiamato giocatore del Napoli, sono contento come... come un giocatore top player Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo con PES 2017 per un altro ball opening ragazzi Dopo tanto tempo ritorno nei ball opening, siccome io ormai avevo tutti i top player del gioco Stavo spacchettando poco, ma adesso ho conservato tanti di quegli agenti E quindi possiamo andare a spacchettare, possiamo andare a vedere chi possiamo trovare E il nostro obiettivo è Neuer, è l'unico per il più forte di Buffon che ho Quindi la nostra ricerca è per Neuer Apriremo oggi ragazzi 7 agenti, 7 agenti speciali Guardateli quanta roba ho conservato, guardateli Sono tipo 17-18 agenti free facendo i tornei online, i tornei offline ogni settimana che aggiornavano PES Quindi vediamo un po' alla ricerca di Neuer O anche oggi apriremo anche i due Toti Legacy che ho Ne avevo tre, uno l'ho aperto nell'ultima live che abbiamo fatto su PES 2017 E oggi ne apriremo gli altri due Quindi abbiamo buone probabilità di trovare quello che cerchiamo Speriamo bene, speriamo bene ragazzi Maglietta dell'Arsenal oggi Ma c'è sempre Baggio qui con noi a vegliare su di noi E speriamo che ci porti fortuna Allora, chi possiamo aprire? Chi possiamo aprire? Io addirittura ho conservato Best of December Quindi ho detto tutto Ne ho due addirittura, quindi quello online e quello offline Va bene, allora apriamo prima WebA Champions League Stars R16 più Toti 2016 nomini C'è la nomination ai Toti Quindi questo pure è vecchissimo Ma lo apriamo e vediamo un po' chi ci uscirà ragazzi Non vi preoccupate, torneranno le parti tozze qui su PES 2017 Scrivetemelo nei commenti Ragazzi, fatemi vedere il vostro supporto per PES 2017 Così da fare live più l'opening eccetera eccetera Arriviamo a 500 like ragazzi 500 like e questo è pallone nero Vai pallone nero, vai 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 Vai, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Beccolo, 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 beccolo No, no No Strupido Un bel pallone nero voleva, argento Però vediamo chi è almeno Ma chi è con sta Campi Nel Bayern Leverkusen Può essere buono Può essere buono Aggiungi a membri di me che l'è Campi Bene Un bene, bello, sostanzioso Ci voleva, ci voleva Il prossimo che apriamo Sono Ah, questo è proprio buono Questo è proprio buono Ma ce lo conserviamo Quindi apriamo il prossimo Apriamo Best of 2016 2017 Quindi i migliori del 2016 2017 Ne abbiamo tre Ne abbiamo tre Quindi andiamola ad aprire Vai con il primo Vai 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 Uuleule Ragazzi, ditemi se volete pure una live Con sfido gli iscritti Magari così ci sfidiamo Perché è uscita la modalità Free to play di best 2017 Quindi se avete playstation 4 Potete scaricare gratis Best 2017 My club E potete giocare Così ci sfidiamo Ci sfidiamo Vai No Oh, si becca il pallone nero Con queste poche probabilità Sono pochissime le probabilità Ma un giocatore del Napoli Ma un giocatore del Napoli almeno Gabriel Jesus Mi è uscito Gesù Alleluia Ah, no Gabriel Jesus Va bene Magister City Aggiungiamo a Mermire Club Oh, quanto era forte le statistiche Queste sono Eh, sono giocatori d'argento da tenere d'occhio Eh, ho visto le statistiche Tutti sopra 80 Quindi non scherziamo Non scherziamo Apriamo il secondo di Migliori 2017 E vediamo un po' Vediamo un po' Dom Vai Proprio sul pallone nero Ho cliccato Così esce il pallone Argento Vediamo un po' Con la maglietta Degli Amandola Brothers Evans Evans Questo avanzava A A PS E mi è uscito Questa era squallida proprio Questa era proprio Paceva proprio Schifo Vabbù Aggiungiamo in Mermire Club Però guarda Mi stanno uscendo Tutti argentoni Con le statistiche Sopra gli 80 82 84 Ma Bene Bene Quindi E' meglio che mi escono così Che è meglio Come dice il grande filosofo Puffo quattro occhi Babù 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 Allora Todi Legacy Eccoli qui due Ma li apriamo dopo L'altro Eccolo qua Eccolo qua Migliore 2016 2017 Dai Pess Per piacere Pess Credo in te Pess 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 Ho distrutto qualcosa No Guarda lì Il pallone nero è uno Ogni 30.000 anni Vai Ok Questo 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 E' un altro argentone Almeno un oro Cioè Non mi servono i giocatori Si Pess E' vero Però Cioè Un giocatore del Napoli Ma perché Perché Sono stupido Lo so Che cosa Contatto fisico 93 85 85 84 Ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Se questi Giocatori Una bella squadra Argento Con questi Giocatori Può essere Competitiva Può essere Competitiva Le squadre Argento Vanno per la Maggiore Ultimamente Allora Abbiamo aperto Anche il Best of 2016 2017 Ora ci tocca Ci tocca Aprire Quindi abbiamo aperto 3 4 Quale vogliamo aprire Ancora Prendiamo Questo Aspetta L'ultimo E poi apriamo I migliori I più buoni I più buoni Quelli dei toti Quelli dei toti Quindi apriamo Ah Questo qui 80 più Che c'è Che c'è Uno solo Che si può girare Quindi spendendo I GP Vai Paga con GP Questo 80 più Che lo possiamo aprire Una sola volta Vai Quindi sicuro Oro Mo' Non ci può uscire Argento Pallone nero Ogni tanto Un giocatore Del Napoli Dai Voglio completare Il Napoli Dai Dai Pess Dai Pess Oro Ok Non è nero Però Però sei 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 Chi sei Giorginho Che è lui È Giorginho È Ronaldinho Mi è uscito Adesso c'è Ronaldinho E pure Frate L'ho chiamato Il giocatore Del Napoli Sono contento Come 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 un giocatore Top player Giorginho O frate Scemo E Ronaldinho E vai E vai Mi è uscito Il giocatore Del Napoli L'ho chiamato E vai E vai U è pure forte Stiamo parlando Frate Scemo E Ronaldinho Non scherziamo Non scherziamo Aggiungo Membrimac Ok Quindi Giorginho C'è uscito Giocatore Del Napoli C'è uscito Adesso c'ho Cayecon Giorginho Reina Chi c'ho più Del Napoli Milik Non è Basta se non sbaglio Vabbè Andiamo ad aprire I pesanti Ragazzi Adesso la situazione Si fa pesante Adesso viene il bello Quindi Ragazzi Non so se ci avete fatto caso Ma ho cambiato look Come vi look Vi look bene Togliate i capelli Vabbè Allora Quindi dove stanno le nomini 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 Eccolo qua Prima nomini Ti prego Vediamo i bersagli Elengo bersagli Vediamo Ce li ho tutti Aguero Lo voglio Mi piacerebbe averlo Boateng Pure mi sta bene Pogba Eh Poi il resto no Cioè Non mi servono Griezmann Forse Però Apriamo Bam Togli nomini Per piacere Peste Non fare lo struvido Guardate Tutto oro Tutto oro C'è pure un argento E allora mi esce oro Questo Dai Non mi esce Quelli lì buoni Ma beccavo l'argento Se beccavo l'argento Me ne andavo Qui non ci sono Giocatori del Napoli Se non sbaglio Chi è Ma chi sei Oh c'è la barba Sono io qualche Allen Dello Stoke Sono io un po' di Di settimane fa Capelli lunghi A barba Già ma membri my club Per non farcelo uscire di nuovo Solo allenamento tattico Mi da Ed ora ragazzi I due Toti Legacy Neuer Per piacere Neuer Voglio Neuer O Tiago Silva Sono i due forti Che mi mancano Poi ho completato I Toti Praticamente Pure Boateng va bene Pogba così Così Ma questi altri qui no Questi altri qui no Ma sono sicuro Che mi usciranno Quindi Gli ultimi due ragazzi Gli ultimi due Vai È difficile Beccare un pallone nero È difficile Guardali quanti oro I tre neri sono andati Due Altri due Quando sono solo oro Poi cliccamo Eccolo qui L'alfinza di oro No No Per poco Per poco Mannaggia Mannaggia Porca miseria Chi sei Ma chi è Chi è Evra Puro a me Evra Mannaggia la miseria Evra 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 un buon giocatore Ormai non lo è più Aggiunge Mi Ma Ah Allenatore speciale Mi sta bene Allenatore speciale Mi sta bene Apriamo l'altro L'ultimo E poi Non c'è Sono solo due oro Perché mi escono tutti quei di oro Se sono solo due Pallone nero per piacere Non fare lo stupido Pess Ok Vai 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 C'è uscito il giocatore del Napoli almeno Chi è questo Torres Fernando Torres Va bene Va bene Per una squadra Palloni d'oro Va bene Va bene Pazienza Pazienza Almeno c'è uscito il giocatore del Napoli È stato il premio di consolazione È stato il premio di consolazione Consolazione Scusatemi Storpio le parole Va bene Va bene Quindi è andata abbastanza Benino Poteva andare molto molto meglio Però ragazzi La formazione quindi non cambia Ve la faccio rivedere Un pochettino Gli ho fatti aumentare di livello un po' Quindi le statistiche sono più alte della volta scorsa Che avete visto l'ultima volta la formazione Ma questa è la formazione Quindi Non abbiamo potuto modificare niente Se ci usciva tipo David Villa Lo mettevamo al posto di Bujol O Noyer al posto di Buffon Ma niente Quindi la formazione rimane questa Spero che il video vi sia piaciuto Ragazzi Scriviamo a 500 like 500 500 like Per altri ball opening Partitozze Eccetera Qui su FES 2017 Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Cliccate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Iscrivetevi alla pagina facebook De Giamendola Brothers Trovate il link in descrizione E tutti i nostri social Poi può capitare Può capitare Che il gameplay non vi sia piaciuto Se il gameplay non vi è piaciuto Da parte di chi? Da parte di Giorginio O Frate Scema E Ronaldinho? Madonna Grazie ragazzi Da Jonathan Mendola I Amendola Brothers Alla prossimo video Ciao e ciao 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 Grazie per la visione!